Siamo onorati questa volta di avere organizzato una partita importante per duplice aspetto, per ricordare Davide e Andrea che purtroppo non ci sono più, ma anche perché nella nostra partita ci sarà la Juventus, la Juventus di Remino, che grazie a lui e ad Antonio siamo riusciti a portare in Valle Camonica. Credo che questo evento sia di lustro per tutta la Valle Camonica, ma anche per la provincia di Brescia, perché un evento del genere non era mai stato organizzato da nessuno. I Vintage Nero Verdi ringraziano di cuore la Juventus e questi personaggi che verranno in valle, ma soprattutto con il riconoscimento per la famiglia di questi due bambini, i nonni e la mamma, che hanno tanto bisogno di avere vicino qualcuno che dimostra l'affetto e la vicinanza. La partita sarà il 14 di novembre, noi ci auguriamo davvero che lo stadio questa volta sia veramente pieno, perché l'oratorio di Ono San Pietro dedicato ai due bambini dovrà essere costruito anche grazie a questa partita. Per cui noi ci contiamo, noi Nero Verdi e anche tutta la tifoseria Nero Verde che ci ha sempre apprezzato e stimato.